Bentornati, libro terzo, canto secondo dell'Orlando innamorato di Matteo Vanni Eboiarto. Ottava. Il sol dei raggi d'oro incoronato trasse il bel viso fuor della marina. E qui a riosto nel furioso 31-36 poscia che il nuovo sole incoronato del mare uscì di luminosi rai. E il ciel depinto di color rosato già nascondea la stella matutina sentiasi, entro il palagio in ogni lato, cantar la rondinella pellegrina. E gli augelletti nel giardino intorno facean bei versi allo apparir del giorno. Quando dal sonno mandricardo sciolto uscì di zambre nel prato discese. Ad una fonte rinfrescossi il volto e prestamente se vestì lo arnese, combiato, avendo dalle dame tolto là dove era venuto il cammin prese e quella dama che l'avea guidato non l'abbandona e sempre gli è dato. Ragionando con seco tuttavia de' arme d'amore e cose dilettose, lo ricondusse in quella prateria dove era l'opere sì maravigliose. Lo alto edificio avanti se vedia candido tutto e pietre luminose, con torre e merle a guisa di castello, ma i viti al mondo un altro tanto bello. Un quarto aveva di miglio ad ogni fronte, cioè ogni lato del castello misurava un quarto di miglio, ed era quadro a ponto di misura, dritto a levante aveva la porta e il ponte, ove se puote entrare senza paura, ma come arriva cavaliero o conte sopra la soglia dell'entrata, giura, con perfetta alleanza e dritta fede, toccar quel scudo che davante vede. Posto il bel scudo in mezzo alla gran piazza, ricontarvi el come non dimoro. Aveva corte intorno ad ogni fazza loggia dipinte con sottil lavoro, Gran gente era ritratta ad una casa, e un gentil damigell era tra loro, più belli lui tra tutti non si vede, e te aveva scritto al capo Ganimede. Ricordiamo Ganimede, figlio di Trò, il più bello dei mortali, che gli dei rapirono in cielo perché servisse loro da coppiare, Zeus che aveva mandato la sua aquila a rapirlo, diede a Trò in compenso una coppia di cavalli divini, gli astronomi lo posero tra le costellazioni col nome di Acquario. Tutta la storia sua vi era ritratta di ponte in ponte che nulla vi manca, come cacciando alla selva disfatta, lo portò sino al cielo l'aquila bianca, qual poi sempre fu in segna di sua schiatta, sino al giorno che Thor, l'anima franca, ucciso fu nel campo a tradimento, cangiò priame e l'arme e il vestimento. L'aquila prima aveva bianche le piume, che candida dal cielo era mandata, ma poiché Troia fiede pianti un fiume nella crudele e misera giornata, quando fu morto e Thor, il suo gran lume, la lieta insegna, lor fu tramutata, per somigliarse, a sua scura fortuna, l'aquila bianca, travestirno a bruna. Benché il scudo e Thor, che io vi ho contato qual era posto in mezzo alla gran corte, non era in parte alcuna tramutato, ma tal quale il portava il baron forte, ad un pilastro d'oro era chiavato, ed avea scritto, sopra le lettere scorte, se un altro e Thor non sei, non mi toccare, chi me portò non ebbe al mondo pare. Di quel color che mostra il ciel sereno, aveva il scudo, che io dico, appariscenzia. La dama dismontò del palafreno e fece in sulla terra riverenzia, e Mandricardo fece più nemmeno, poi passò dentro senza resistenza. Essendo gionto in mezzo a quel belloco, trasse la spada e toccò il scudo un poco. Come fu tocco il scudo con la spada tremò da intorno tutto il territorio, con tal rumor che par che il mondo cada. Indi si aperse il campo del tesoro, questo era un campo folto di una biada che avea tutte le paglie e spiche d'oro, quel campo si mostrò senza dimora, per una porta che si aperse allora. Ma l'altra da Levante, o'era entrato il cavaliere, si chiuse tutta quanta. La dama disse a lui, baron pregiato. Uscir de quindi alcun mai non se vanta, se la biada che vedi in ogni lato prima non tagli, e se la verde pianta, qual vedi in mezzo a quel campo felice, prima noschianti in fin dalla radice. E Mandricardo, senz'altro pensare, entrò nel campo con la spada in mano, e cominciando la biada a tagliare, lo incanto apparve ben palese e piano, che ogni granetto si ebbe a tramutare in diversi animali orrendi e strano, or le onza, or pantera, or alicorno, al baron tutti se avventarno intorno. Come cadeva in grano in sulla terra, in diversi animalze tramutava. Per tutto intorno Mandricardo serra, e la sua protezza poco gli giovava, che non si vide mai si strana guerra. La folta sempre più moltiplicava dei lupi, dei leoni, e porci, e dei orsi, qual con graffilo assalta, e qual con morsi. Durando aspre e crudel quella contesa, quasi era posto il cavaliere al basso e restava perdente della impresa tanto era delle fiere il gran fraccasso. Ne potendo più a quasi aver difesa chi nosse a terra e prese in mano un sasso, quel sasso era fatato e non sapea Giambandricardo la virtù che avea. Questa pietra, che io dico, avea segnali verdi, vermigli, bianchi, azzurri ed oro, e come tratta fu tra gli animali, tra quegli apportò zuffa e gran martoro perché e tauri selvatici e cingiali e l'altre bestie cominciare tra loro si gran battaglia e morsi aspri e diversi che in poco d'ora for tutti dispersi. Le bestie for disperse in poco d'ora che l'una uccise l'altra incontinente e Mandricardo non fece dimora che a ciò che far conviene avvia la mente. L'altra ventura vi restava ancora, dico, la pianta lunga e teminente che ha mille rami e ogni rama e fiorito a quella presto il cavaliere egito. Di tutta forza dal tronco si abbracciava e pone a radicarla cioè per sradicarla e radicarla ogni vigore ma dibattendo forte la crullava onde ogni foglia si spiccava il fiore e giù cadendo per l'aria volava. Ho detti semmai fu cosa maggiore. cadendo foglie e fiori a gran fusone in gran quantità a foison si dà in francesismo qual corbo diveniva e qual falcone astori aquile guffi e barbagianni con seco cominciarono a far battaglia benché non potevano lasciarli i panni che armato il cavaliere a piastre e maglia pur erano tanti che davano affanni dintorno e gli occhi essi fatta travaglia che non poteva fornire il suo lavoro ed entrare il tronco alla radice d'oro ma come quel che aveva molto ardimento non teme in paccio la forza raddoppia sicché infine la diversa granistento e nell'estirpar la parbe tuon che scoppia con orribil rumore uscite un vento e tutti quegli ocelli all'aria soffia il vento uscite come turpin dice dal buco proprio dove era la radice for di quel buco il gran vento rimbomba gettando con rumore le pietre in sue come fossero uscite di una fromba e riguardando il cavaliere laggiù vide un serpe uscir di quella tomba indi li parbe non una ma due poi più di sei e più di otto le crede cotante code inviluppate vede or perché sia la cosa manifesta era la serpe di quel buco uscita quale avea solo un busto e tu una testa ma dietro in dece code era partita e mandricardo ponto non si arresta che voleva a sua avventura aver finita col brando in mano alla serpe si accosta e il primo colpo a mezzo il collo apposta ben le gambe lo agroppa con altre il busto e con altre le braccia sì che legato a forza in terra il caccia lungo il drago il mostaccio e il dente bianco e l'occhio pare un foco che riluca con quella zaffa il cavaliere al fianco la piastra come pasta se manduca lui si rivolge assai ben che sia stanco e rivolgendo cade in quella buca ove uscia quel gran vento oltremisura non è da dimandare se gli ha paura ma sua ventura nel cadere fu questa che in altro modo dalla morte preso cadendo nel profondo con tempesta fiaccò il capo al serpente col suo peso sicché schiantargli i fie gli occhi di testa onde si sciolse e tutto si è disteso dibattendo le code tutte quante rimase a terra morto in un istante morto il serpente o riguarda il cavaliero la scura grotta di sopra e di intorno lucea un carbonchio a guisa di doppiero quarendea lume come il sole al giorno la tomba era di un sasso tutto intiero ma quella era coperta e tanto adorno di ambra e corallo e di argento brunito che non si vede di quel sasso un dito avea nel mezzo un palco edificato di un avorio bianchissimo e perfetto e sopra un drappo azzurro ed orsellato posto come dossiero o capoletto sono sinonimi di coperta dal letto parea là sopra un cavaliere armato che si posasse senza altro sospetto parea dico e non vi era ognon ben note sol vi era allarme dentro erano poi vote queste arme for della franca persona che viene al mondo tanto raccordata dei tordico io che fu la corona di ogni virtù e di ogni virtù al mondo appreggiata suo guarnison di cui mosse ragiona priva del scute priva della spata ovestia il scuto poco su se spiana la spata ha orlando e quella è durindana forbite le piastre luminose che appena soffre l'occhio di vederle frissate ad ore e pietre preziose freggiate corubini e smiralde e grosse perle ma Riccardo ha le voglie disiose mille anni a lui pare di indosso averle guarda ogni arnese lo esbergo intorno ma soprattutto l'elmo tanto adorno questo avea di oro una cima un leone con un breve l'armatura dietro d'argento entro una zampa di sotto a quel purdore era il torchione con vintisei fermagli di una stampa ma dritto nella fronte avea il carbone qual riluceva guisa di una lampa e facea lume come è sua natura per ogni canto della grotta oscura allora da questa apologia dell'armatura si comprende chiaramente il fascino che questa armatura aveva esercitava nelle corti dell'epoca di boiardo e nei nobili del tempo potremmo dire che attraverso un simile scorcio eloquente è possibile rintracciare atteggiamenti e modi comportamentali di un'intera società e ovviamente sia pure della sola società di corte che da cui promana appunto la cultura e mi perdoni l'anno moretti il background da cui proveniva appunto boiardo mentre il cavaliere stava a mirare l'arme che era mirante senza fallo sentì dietro alle spalle risuonare nell'aprire di una porta di metallo voltosse e vide a sé più dame entrare che a copia ne venia menando un ballo vestita a nova gala e strane zaccare fregi d'abbigliamento femminile suonando dietro all'or zuffoli e gniaccare lor scabbiettando sgambettando ad ogni lato sguinciono guizzano con salti dritti si innalciano all'aria così danzando una canzon cominciano di nota arguta consonante varie con le voci che tormenti vinciono fan rintonare la tomba solitaria poi nella fin tacendo tutte quante se inginocchiarno al cavaliere avanti si prostano davanti a madre ricardo qui vi si fu levata una di quelle ma ricardo cominciò a lodare ponendo sua virtù sopra le stelle per questa impresa tanto singulare la tacque e altre due donzelle aprirono il barone a disarmare e disarmato sotto alla sua scorta for della tomba il misero alla porta ad osso poi gli posero un bel manto define seta e ricamato a ziffere cioè a cifre geometriche simboliche ci dice lo scaglione e perfumarlo appresso tutto quanto di odor suave con acque odorifere e confessa ioconde dolce canto suonando tamburini e trombe piffere qui c'è una rima imperfetta tra ziffere odifere piffere sottolinea la scarsa sensibilità emiliana alle doppie e scempie sempre scaglione per una scala di marmoro ad agio con lui si ritornarno entro al palaggio nel bel palaggio quale io vi contai che aveva il scudo di etorra la gran piazza qui vi erano cavalieri e dame assai chi canta e danza e chi ride e sollazza più regal corte non si vide mai ma come apparve mandricando fasa gli andarno incontra e assumissimo onore lo riceverno a guisa del signore qui c'è una singolare forma di superlativo sumissimo per sommo grandissimo massimo nel mezzo a rico seggio era la fata che a sé davanti mandricardo chiede e disse cavaliere questa giornata tal tesoro hai che il simil non si vede or se conviene aggiungervi la spada e ciò mi giurarai sulla tua fede che durindana lo incantato brando torai per forza de arme al conte orlando allora dobbiamo ammettere che il motivo del contrasto fra mandricardo e il lontano orlando è suscettibile di attese incognite altamente spettacolari e sappiamo bene come si trovino si attraversino facilmente nel boiardo interi continenti no si arriva a un certo punto con balzo si arriva nel catai poco prima si era in africa e via citando e sin che tale impresa non sia vinta giomai non posarà la tua persona nulla altra spada portarai più cinta ne odornarai tua testa di corona l'aquila bianca quel scudo dipinta nulla alta inchiesta e inchiesta attenzione lemma molto importante e inchiesta 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 dei cavalieri mai non l'abbandona che quella arma gentile quella insegna sopra ad ogni altra dei trionfi e degna ricordo reminiscenza liceale che nella celebre antologia materiale dell'immaginario di Remo Cesarani c'era appunto un capitolo dedicato all'inchiesta dei cavalieri erranti e c'era questo parallelismo fra l'errare girerrando e l'errare l'errore il paragone re mandricardo allor con riverenzia siccome piace a quella fata giura e l'altre dame nella sua presenza tutto il guarnino al punto di armatura come fu armato allor prese licenze avendo tratto a fin l'alta ventura per la qual più baronde su un mardire eron l'appresi e non potean partire ora uscirono le gente tutte quante mandricardo libera delle persone che erano lì prigioniere che gran cavalleria vi era prigione esoliere spagnolo sacripante re gradasso e il giovane griffone sia che uscitte il fratello aquilante gente di pregio e di condizione vi erano assai e nomi di alta gloria che non accade a dire in questa storia però che re gradasso e mandricardo insieme se partirno in compagnia né a ricontarvi molto se lo tardo ciò che intravenne allora in questa via ben vi so dire che un par tanto gagliardo non fu in quel tempo in tutta pagania però faran gran cose e peregrine prima che in fraccia sian condotti a fine ma griffone e aquilante altro camino presero insieme perché erano germani sapendo il linguaggio saracino sicuri andarno un tempo tra pagani or cavalcando un giorno a matutino due dame ritrovarno con due nani l'una di quella bruno era vestita l'altra di bianco candida e polita e similmente in anni i palafreni di neve e di carbone avean colore ma le donzelle avean gli occhi sereni da trar col guardo altru ripeto il core accoglimenti di carezze pieni parlare suave begesti d'amore ed è tra queste tanta somiglianza che l'una l'altra de niente avanza e cavalier le damme salutaro chinando il capo con atto cortese si tratta di una schermaglia amorosa amabilmente tratteggiata ma quelle l'un l'altra se guardaro e la vestita nera a parlar prese dicendo alla compagna altro riparo far non si può né far altre difese contra di quel che il ciel destina il mondo come infinito e il suo girare in tondo ma pur se puote il tempo prolungare far col senno forza la fortuna chi fece il mondo lo potrà mutare e porre il sole il loco della luna prendiamo dunque partito se ti pare disse la bianca alla donzella bruna di ritener costor poiché la sorte or li conduce in francia a prender morte queste parole insieme ragionando avea le dame non era intese dei due cavalieri insinacquando la bianca verso dessi a parlar prese dicendo loro io mi vi raccomando se la ragion per voi mai si difese se amate onore la cavalleria esservi piaccia alla difesa mia ciascun dei due baroni quasi a un tratto proferse a quell'aiuto a suo potere disse la bruna ora intendete il fatto poiché inteso abbiamo noi il nostro volere fermar vogliamo affere questo patto che una battaglia avrete a mantenere insinché un cavaller sia al tutto morto il qual ci offende e vilaneggia a torto parlano i giganti quel disleale quel villano è nominato Orilo allora il nome e la natura strana di Orilo furono probabilmente suggeriti a Boiardo da Virgilio naturalmente duca dove narra di quell'erilo al quale la madre Feronia aveva dato tre anime e tre volte bisognava ritornare ad ucciderlo per averne definitivamente ragione quel disleale è nominato Orilo e non è in tutto il mondo il più fellone tiene una torre in su il fiume del Nilo dove una bestia guisa di dragone che la viene appellata il cocodrillo pasce di sangue umano e di persone per strano incanto è fatto il maledetto che una fata nacque ed è un folletto come vi dico nacque per incanto quella persona di mercè ribella cioè ribella al sentimento di pietà che questo regno ha strutto tutto quanto perché ogni cavaliero domigiella qual cui vi giunga o passi in ogni canto fa divorare a quella bestia fella cercato abbiamo di un barone assai che tragga il regno e noi di tanti guai ma sino a qui il rimedio non si trova né alcun riparo a tal destruzione che quel da morte a vita si rinnova per alta forza di incantazione ora di voi si vedrà la prova che ciascun mostra di essere campione per trarre affine ogni impresa eminente se a vostra vista lo animo non mente a quei due cavalieri gran voglia preme di provare questa cosa tanto istrana e camminando con le dame insieme girano alla torre e può correre lontana già se ode il maledetto che la freme come fa il mar quando esce tramontana fremendo batte ore in forma e denti che sembra un marturbato a suon dei venti aveva nell'elmo per cimero un guffo cornuto appenne con gli occhi di fuoco e lui soffiava con orribili buffo ma quei due cavalieri il stimo un poco perché altre volte hanno visto il lupo in zuffo cioè hanno visto il lupo nel ciuffo hanno visto il lupo in faccia cioè altre volte sono stati vittime di pericoli e danno del tuo appunto alla paura e stati sono a danza in altro loco ne stimola il periglio a un vilpaglia dove il sfidarno presto alla battaglia ma quel superbo non fece risposta mosse con furia la sua mazza afferra né più fece aquilante indugio a sosta ma la sua lancia lascia andare a terra e poi col brando in mano a lui si accosta e tra loro cominciarono un'aspra guerra dando e togliendo e di sotto e di sopra quella maccia e questo il brando ad opera di quel ferire grifone a poca cura allora si tratta certamente di un errore di boiardo qua grifone perché nell'ottava precedente è aquilante a combattere ma tutte le edizioni antiche riportano concordemente e di grifone di quel ferire grifone a poca cura che era guarnito a piastre fatte ad arte ma lui taglia al pagano ogni armatura come squarciasse tegole di carte John solo un tratto a mezzo la cintura e in due cavezzi a pontolo di parte così andò a mezzo a terra quel fellone dal busto in giù rimase nello arcione quel che è caduto già non vi è chi lo alci ma brancolando stava nell'arena e il suo destier traea terribili calci faceva gran salto e giocava di schiena onde conviene come si vedono queste immagini onde conviene che il resto al prato balci ma non fu gionto in sulla terra pena che un peso e l'altro insieme si suggelle tutto integro salta nella sella se a quei baron pare alla cosa nuova quella incontrata a dir non è bisogno che avenga che turpina ciò me muova io stessa raccontarla mi vergogno disse aquilante io vo a veder la prova se io faccio da dovero oppure in sogno così dicendo addosso a quel si caccia e orilo addosso a lui con lui la maccia e l'uno e l'altro a buon gioco lavora benché disavantaggio a quel pagano che il gagliardo aquilante in poco d'ora l'arme li ha rotte poste tutta al piano essendo destinato purché imora abbandona un gran colpa d'ambe mano sopra le spalle alla cima del petto e il collo e il capo via gli tagliò a dinetto ma noi sappiamo ora ascoltati che stupendo caso la persona incantata e maledetta colui dico che in sella era rimaso par che la mazza al lato si rimetta e prende la sua testa per il naso e nel suo loco questa se la rassetta si afferra la testa e se la rimette a posto e nel suo loco quella se la rassetta e indi sua mazza presto rimarrivò ritolta e torta la battaglia un'altra volta la bianca dama cominciava a ridere e disse ad aquilante bello amico lascia costui che non lo puoi conquidere e credi a me che vero è quel che io dico se in mille parti l'aveste a dividere è più un minuto il tagli che il panico ma lo potrai veder del spirito privo spezzato tutto sempre sarà vivo disse aquilante e non fia mai sentito questo nel mondo tal vergogna intesa che ogni mio assalto non abbi finito se ben me consumassi in fiamma accesa e benché a questo non veda partito sino alla morte seguirò la impresa fia de mia vita poi quel che a dio piace ma con costui non vò tregua né pace così dicendo e turbato nel volto voltò ad Orril e tallo in terra porre ma quei ribaldi già del campo tolto e rifugito dentro dalla torre siamo sul dilo l'orrendo cocodrillo aveva disciolto fuori della porta quella bestia corre dietro Orril in sul cavallo armato ben par che il campo tremi in ogni lato come vide Grifon quello animale qual vien correndo a quel fellone avante mosse siratto come avesse l'ale per dare aiuto al germano aquilante altra battaglia non fu mai cotale di tanto affanno e di fatiche tante quanto se puote in suffa sostenire ma ciò riservo in l'altro canto a dire